Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti, io e Spillo, ciao amore, vediamo, ciao Gicino, quanto è bello amore di mamma, vediamo il benvenuto in questo nuovo video cartopazzo cancelleria carrello che porto sempre con me, un facsimile del carrello Ikea ma che io non ho comprato all'Ikea, bensì è un negozio che si chiama NKD che ha sia abbigliamento che articoli per la casa o perlomeno alcuni articoli della casa, ho deciso di comprare, davvero me l'ha comprato Michele, questo carrello perché tutte le volte che dovevo scrivere sull'agenda o comunque avevo bisogno di prendere con me un'agenda, poi dovevo prendere l'astuccio, poi dovevo prendere i washi tape, poi dovevo prendere gli stickers, era un casotto, invece col carrello ho tutto quello che mi serve già qui in modo tale che poi i movimenti che devo fare sono veramente minimi, quindi non voglio diciamo dilungarmi troppo, non voglio nemmeno fare un video lunghissimo perché io parto con i buoni propositi e poi invece mi perdo, premetto che è calamitato, cioè non è calamitato, ci metto le calamite perché comunque qui è in ferro e le calamite che ci ho messo sono queste qui di casa shop che avevo comprato, un gruppo da tre e l'ho immesse qui, quindi partiamo da questo e poi qui ho messo un'altra calamita a molletta per mettere i foglietti e questo qui, allora col mio nome, questo mi ha fatto Erika tra l'altro e qui l'avevo plastificato e poi ci ho messo due calamite, avevo due pezzettini di calamite e lo appoggiate qui così, allora qui ho messo due tipo svuotatasche e all'interno vi faccio subito vedere gli ultimi acquisti ultimi che ho fatto e sono questi qua che sono delle penne tipo stabile che ho comprato all'Aushan, un attimo che accendo, ecco qui, ho comprato, no all'Aushan lì per simpli, togliendo tutti i prodotti Aushan aveva tirato fuori questi pennarelli, queste penne tipo stabile a 50 centesimi, quindi ho preso questo, lo stesso a 50 centesimi ho preso questi pennarelli a due punte, una un po' più grande, una più sottile e poi lo stesso mi sembra o per 50 o per 20 centesimi, questa penna con questa matita con le mine, ecco mi piacevano e quindi le ho prese allora poi andiamo a vedere che cosa ho inserito dentro, ho inserito dentro questi sticky notes con l'unicorno e ho inserito dentro quest'altri che avevo preso da Aliexpress con il calendario e alcuni stickers e dei tabs che si trovano, non si trovano, si si trovano nella pagina posteriore io ve la faccio intravedere da qui, sono praticamente tutti mini tabs da poter inserire, ecco vedete tutte le targhette da poter inserire poi nell'agenda, perché comunque questo è il facsimile Obunici che io ho preso invece da Aliexpress, l'ho pagato 6 euro e qualcosa, veramente con la custodia poi ci ho comprato, quindi comunque non so se lo userò quest'anno, perché comunque le cose di agenda ne ho veramente tante, farò anche il video agenda, qui ho messo delle taschine che mi serviranno, l'agenda questa qui del 2020, già pronta per essere utilizzata e qui ho un quadernino dove io segno da sempre tutte le cose che mi servono per le Midori, per fare i miei pastrocchi e quant'altro. In quest'altro invece portapenne io tengo un altro libricino, alcuni stickers, alcune penne, forbici doppie, le clip, tengo queste qui vicino e colgo l'occasione per farvi vedere questo, questo è un portachiavi che mi ha regalato la mia amica Tatiana, nel video regali di Tatiana, qualche video prima di questo, mi ero dimenticata di far vedere questo portachiavi che è bellissimo e lo tengo qui con me perché comunque mi piace veramente tanto questo, poi qui ho altri portachiavi, altri gingilli, qui ho un porta clip, poi graffette che lo inserisco qui e qui ho messo altre penne che devo ancora trovarli con locazione questo qui, questo timbro della legami che cambia a seconda di quello che uno deve scrivere cambia e non so manco, eccoci qua, lasciamo qui, poi questo portapenne con tutte le penne dentro queste prese da Tiger, pagato un euro e questa è la borsa nuova che io ho comprato perché dentro c'è custodito, a parte le clip, c'è custodito la nuova agenda mia diario personale che non vedo l'ora di utilizzare, eccoci qua, che meraviglia, questo me l'ha regalato sempre Michele e non vedo l'ora di utilizzarlo, sarà la mia agenda del 2020 personale, personale, quindi di questo sono contenta all'interno del sacchetto sempre ho messo questo qui, sarà perché comunque mi richiamava il colore e sono dei sticky notes, questi qua che erano del Tiger con un blocco appunti e questo pure, no, questi sono tutti sticky notes, tutti tutti, poi all'interno sempre della busta dove tengo questo diario ho aggiunto questi altri stickers, questi qui guardate che meraviglia e questi li userò proprio per qui, per questo diario qui e poi questo qua con rigatti sempre presi da Aliexpress che mi piace veramente tanto. Poi nel secondo piano invece ho inserito delle penne gel perché comunque mi servono e qui in quest'altro barattolino sempre che ho inserito praticamente tutti gli evidenziatori stabilo, mezzo righello, questi che fanno praticamente i cuoricini, eccoci qua, poi ce n'è un altro, eccoci qua questo qui che funziona sempre nel video di Tati, non riuscivo a capire come funzionassero io che sbagliavo e funziona perfettamente quindi questo qua lo tengo con me, mentre qui, allora tolgo un attimo qui perché se no non riesco a farvi vedere perché sto tenendo il cellulare con la mano, non ho il treppiedi, se no non riuscirai a farvi vedere tutto, non ce la faccio. Questo è praticamente quando facevo la collaborazione con Erika, che poi lo vorrei ricoprire perché comunque vorrei utilizzare o un Tiffany o un rosa, volevo ricoprire la copertina perché questo andava bene d'estate per dire, poi naturalmente la copertina ce la metto semplicemente sopra, poi l'originale rimane e questo dentro ho messo tutti, diciamo, i campioni che avevo della collaborazione che facevo e tengo qui perché comunque mi servono tutti e quindi pure questo e non vedo l'ora, mentre sotto c'era la scatola, eccola qui, questa scatola di latta con dentro, questa conteneva dei biscotti, ci l'aveva regalato una a me e una a Giulia Michele nel due anni fa, nell'epifania di due anni fa e a me aveva fatto così con la scatola di latta lilla mentre Giulia aveva fatto con la scatola di latta rossa. Eccoci qua, dentro io ho deciso di inserirci i washi tape, ne ho tantissimi, veramente tanti, ma quelli che un attimino, un po' più free free, ecco, quindi faccio vedere così un attimino, quelli che mi piacciono un attimino di più, quelli che sono un po' più particolari e ho deciso di tenerli qui e la carrellata è questa, ve la faccio vedere, che comunque sono veramente tanto carini. Qui di lato ho messo, diciamo, quelli più sottili, ecco, quelli più sottili e qui ho messo questi più piccolini, questo bellissimo, enorme, che probabilmente non userò, però non lo so, eh, non lo so perché questo mi può far comodo, molto largo, qui lo stesso dei washi sottili, guardate per farvi capire, questo è con i gattini, la sequenza dei gattini è questa e questo è, sono, non si vedrà mai perché mi fa lo sfondo, praticamente sono micro washi con tutti questi gattini, fanno un amore, mentre questi sono degli stickers che tengo qui, queste con, diciamo, la ceralacca, mentre questi sono con i cupcake, eccoci qua, poi qui altri washi, questi altri washi, ecco qua, spero di riuscire a rimetterli a posto come stavano prima di aprire la scatola, se no, non so come, ok, poi ritornando qui al carrellino, qui ho la borsa, questa qui del, eh, allora facciamo che il cellulare lo tengo qui fermo perché se no ho paura di farvi ballare troppo, allora qui dentro io tengo il tablet che uso quando ho da lavorare col telefonino e contemporaneamente devo guardare qualche video, quindi comunque porto con me sempre la pochettina per inserirci dentro e dentro c'è il tablet, è un 7 pollici dovrebbe essere, un 8, 9, 10 pollici, no, un 7 pollici dovrebbe essere, e c'entra benissimo in queste pochette, quindi tengo qui e poi ho quest'altra della wow mister wonderful che mi era stato regalato da mia nipote e dove tengo, dove tengo, dove già ci sono delle cose che vi farò vedere più avanti quando farò il video delle agende e lo tengo qua sempre con me, poi sempre sul secondo piano ho quest'altro che è spettacolare ma questo diciamo che è un po' più d'impiccio come riesco a tirarlo fuori, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, è questo porta agenda che tengo qui, che casotto, potete capire che casotto ho fatto, questo porta agenda dove tengo due agende, una del 2020 dove già dentro ho cambiato i refill, ma ho messo semplici refill, mentre questa qui dove tengo tutti gli ordini e tutte le cose che acquisto e tutti gli ordini che mi vengono fatti io li segno qui, poi questo è un astuccio che già conoscerete tutti, che avevo preso, questo è un fermaporta, non c'entra niente, che avevo preso dal Tiger, no, sì, dal Tiger, scusate, da Aliexpress, e che io uso e mi fa veramente comodo, è questo qui, vedete dentro com'è, è proprio carino, e dietro mi si era rovinato, mi è dispiaciuto tantissimo, dico sempre che lo devo ricomprare, però ancora non faccio questa spesa, compro altre cose, ma questo mi dimentico sempre, poi dentro ho questa Midorina che mi ero fatta fare, questa qui, e questo è un altro regalo, questo, questa altra Midorina, e qui tengo praticamente le due agende, e se non mi sbaglio, no, non mi sbaglio, non c'è nient'altro, perché comunque nell'ultimo piano che adesso vi farò vedere, ho altre scatole, ho un'altra scatola con altre cose dentro, allora in questa scatola qui io tengo tutti gli stickers, allora ne ho tanti come washi tape, ma qui ho deciso di mettere gli stickers che potrebbero andare bene per l'agenda, e ne ho veramente tanti, proprio tantissimo, proprio infiniti, proprio infiniti, 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 ne ho veramente tanti, tantissimi, la scatola che non finisce più, ecco con tutti gli stickers, perché così li ho sotto mano quando devo fare le decorazioni, dopodiché ho quest'altra agenda olografica, che l'ho già mezza preparata, con i divisori della Pantera Rosa, che avevo preso sempre da Alie Espresso, guardate che carina la Pantera Rosa, che avevo preso da Alie Espresso, e qui in questa agenda, e solo in questa, l'uso sarà questo, ed è stata una scelta che non vi dico, perché tra tutte le agende che ho non riuscivo a trovarne, diciamo, a decidermi di utilizzarne una per le serie televisive, quindi siccome anch'io guardo molte serie televisive, allora ho deciso di utilizzare un'agenda apposta, in modo tale che quando devo scrivere qualcosa e segnare qualcosa, me la scrivo qui. Poi come ultimo, diciamo, ma non per importanza, ho questa Midori, semi Midori che avevo fatta io, dove dentro tengo per i prodotti preferiti la collaborazione che io faccio mensilmente, e quindi questo è, quindi mentre io prima dovevo andare nella stanza creativa a prendere o questo, o quello, quest'altro adesso mi porto tutto dietro, in modo tale che ho tutto davanti agli occhi, ed è veramente molto comodo, il carrello è veramente comodo. Io prima ne avevo uno in plastica, per farci intendere, quello della frutta non va bene, mi sarà rotto tutto, perché comunque non è tanto il peso, ma perché non erano progettati per essere spostati come invece faccio io, quindi diciamo se erano piegate le gambe. Quindi, le gambette, quindi, 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 con questo io vi saluto, mi rimetto a posto tutto il carrello, perché l'ho spogliato, quello è un righello, l'ho spogliato di tutto, vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto, spero di non avervi annoiato, vi mando un bacio, a presto, ciao ciao!